Sapete perché non mi piacciono i cosiddetti salotti buoni? Perché sono una sorta di club dove io do una mano a te, tu ne dai una a me e il giro rimane sempre quello e i protagonisti rimangono sempre quelli. Io sono per i cosiddetti salotti aperti, i salotti in cui i partecipanti sono sempre molto attenti a quello che accade intorno a loro, intorno a loro inteso nella società e sono sempre molto disponibili a individuare e sono felici quando riescono ad individuarlo qualche nuovo talento. Questi sono i veri salotti e non i soliti salotti buoni del solito gruppetto o gruppone di persone che si danno reciprocamente una mano e sono chiusi ad ogni evoluzione e ad ogni innovazione. Grazie. 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 Grazie a tutti.